La difficoltà maggiore in questo settore è convincere i potenziali clienti che la scelta di una vettura elettrificata non è una costruzione ma un'opportunità. Quello che stiamo cercando di fare noi è sottolineare i vantaggi delle vetture elettriche, fare conoscere ai nostri clienti quelli che sono appunto gli sbocchi di questa tecnologia e soprattutto offrire loro un ecosistema di servizi dedicato. Salve a tutti siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo con Stellantis per cercare di capire il punto di vista sulla transizione verso una mobilità sempre più elettrica e digitale di uno dei principali costruttori automobilistici del mondo. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Dopo i recenti investimenti effettuati da Microsoft e Take Two per un totale di 85 miliardi di dollari, qualche giorno fa anche Sony ha deciso di rispondere a tono ai due colossi tech, annunciando l'acquisizione dello studio Bungie, creatore di famosi titoli come Halo e Destiny 2, per 3,6 miliardi di dollari. Si tratta certamente di una notizia piuttosto rilevante, data l'ingente somma che sborserà Sony per portare a termine questa operazione. Tuttavia, è anche interessante analizzare il motivo per cui, solamente nei primi mesi del 2022, sono state concluse già tre acquisizioni miliardarie nel settore videoludico. Le ragioni che stanno infatti alla base di queste importanti operazioni finanziarie sono principalmente due, ovvero consolidare gli investimenti in un mercato dove creare nuovi videogiochi sta diventando sempre più costoso, e soprattutto garantire sufficienti risorse e competenze per lo sviluppo di un efficiente sistema multipiattaforma, basato eventualmente sul cloud, grazie al quale un determinato titolo potrà essere giocato su diversi dispositivi connessi a internet. All'Expo Dubai 2020, che terminerà fra due mesi, la copertura della passeggiata è stata composta in fibra e resina, ed è stata realizzata da una start-up italiana. Il tessuto in questione si chiama eMesh, ed è stato prodotto con un nuovo materiale, sviluppato proprio da eMesh, in un'ottica di economia circolare e sostenibilità. Il tessuto è infatti riutilizzabile e resistente, grazie ai sei tipi di fibre di cui è composto, tra cui carbonio, vetro, basalto e lo zilon, un polimero termoplastico che può facilmente essere separato e riciclato. Grazie a questo nuovo tessuto, dunque, all'Expo di Dubai, si sono potuti realizzare 2,7 chilometri di coperture, evitando di utilizzare travi di sostegno, e risparmiando così circa 31 tonnellate di CO2, che sarebbero state rilasciate nella produzione delle travi in alluminio. Non solo, perché si è riusciti a conciliare un design moderno e leggero e la resistenza necessaria a sopportare le tempeste di sabbia di Dubai, dimostrandosi un esempio di tecnologia per il futuro mondo dell'architettura. Nella prima puntata del 2022 abbiamo parlato, fra le altre cose, anche del ruolo e dell'impatto che avranno i veicoli elettrici nel prossimo periodo. In tutto ciò non dobbiamo dimenticarci che le case automobilistiche stanno affrontando delle grandi sfide di innovazione tecnologica e digitale per produrre veicoli elettrici sempre più efficienti e per sperimentare anche dei nuovi concept di automobile. E per capire come Stellantis sta entrando in questo settore è con noi Gabriele Cattacchio, responsabile della comunicazione per la mobilità elettrica di Stellantis. Benvenuto, Gabriele. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ci spieghi chi è Stellantis, di che cosa si è occupata in questo primo anno di vita e che impatto ha avuto questa fusione per quanto riguarda il settore della mobilità elettrica? Molto volentieri. Allora, come hai correttamente detto, Stellantis nasce un anno fa dalla fusione di due gruppi automobilistici che erano Fiat Chrysler Automobile e il gruppo PSA e quindi da quest'unione è nato un gruppo forte a livello globale e composto da 14 brand iconici che in tutto il mondo hanno un heritage di oltre 100 anni alcuni di essi e propongono soluzioni di mobilità variegate e diversificate in base alle necessità dei nostri clienti. L'unione di queste due aziende ha prodotto ovviamente un piano strategico molto importante e focalizzato su due tematiche che in questo momento fanno da padrone per Stellantis e cioè l'elettrificazione e i software. L'elettrificazione permea ogni attività che stiamo portando avanti per ciascuno di questi 14 brand a prescindere dal target del brand stesso e direi che è importante sottolineare quelli che sono stati i numeri annunciati durante l'Elettrification Day di luglio dell'anno scorso dal nostro amministratore delegato Carlos Tavares. È stato indicato che saranno investiti 30 billion a livello mondiale da qui al 2025 su programmi di elettrificazione software e che i nostri target di quello che noi chiamiamo LEV-Mix con LEV, noi intendiamo vetture full battery, quindi battery electric vehicle 100% elettriche e plug-in hybrid, quindi i famosi BEV e PECV che sentiamo spesso dire. Il target per la nostra azienda è di arrivare a un mix sulle vendite di vetture LEV al 70% almeno in Europa nel 2030 e al 40% negli Stati Uniti. Considerate che ad oggi le percentuali sono 14-15% in Europa e circa il 4% negli Stati Uniti. Quindi potete immaginare come il piano è un piano ambizioso sul quale stiamo investendo tutte le nostre risorse. Per farlo all'interno del gruppo è nata questa business unit di cui faccio parte che si chiama Immobility, nata dalla fusione dei due gruppi, quindi erano due entità che erano già presenti nei gruppi FCA e PSA. La cosa importante è che con Stellantis questa business unit è diventata global, quindi il nostro obiettivo non è solo lavorare in Europa sull'elettrificazione che sappiamo che il continente è la region più attenta e più attiva da questo punto di vista, ma anche nell'altra region, quindi negli Stati Uniti, Nord America, Sud America, in Cina, Asia Pacific. L'obiettivo nostro è di estenderci a livello global per supportare il lancio delle vetture elettrificate. Per farlo abbiamo tre massime, tre principali filoni di attività che sono quello della cooperazione, quindi realizziamo partnership per realizzare servizi a supporto dei nostri clienti che scelgono di guidare le vetture elettriche. Informazione, cioè vogliamo mettere a disposizione dei potenziali clienti tutto quel set minimo di informazioni per capire cos'è la mobilità elettrificata, per capire quali sono i vantaggi, e lo vogliamo fare partendo dai giovani, coinvolgendo le nuove generazioni che saranno i nostri ambasciatori in questo cambiamento epocale. E infine innovazione. Elettrificazione è una parola banale, ma si porta dietro una serie di attività innovative che magari possiamo solo immaginare adesso, penso alla ricarica wireless mentre la vettura si muove sulle autostrade, al battery swap, a mille altre tecnologie che appunto stiamo studiando e potrebbero diventare una leva futura per i nostri prodotti. Ok, adesso ci hai spiegato quindi anche le motivazioni che stanno dietro a questa fusione, però perché è importante investire così tanto sul settore dell'elettrico? Allora, è una bella domanda Davide, allora diciamo che sicuramente ce le impone il mercato e ce le impongono le istituzioni. Allora, stiamo vivendo una fase diciamo globale, non solo noi come produttori di automobili, ma tutti diciamo i soggetti che popolano questo mondo, che sta vedendo in particolare un trend legato all'urbanizzazione che ormai sembra irrefrenabile. Alcuni studi ci dicono che nel 2050 il 70% degli abitanti del mondo, che saranno più o meno 7 miliardi, cioè il 70% sarà rappresentato da 7 miliardi di persone, vivrà nei centri urbani. I centri urbani coprono il 3% della superficie terrestre, immaginatevi cosa vuol dire avere 7 miliardi di persone che camminano, si muovono e utilizzano autovetture solo nel 3% della superficie terrestre. In parallelo, anche la crisi del Covid ha acuito il fenomeno dell'e-commerce, anche qui i studi dicono che dal 2019 al 2023 vedremo un raddoppiarsi del fatturato dell'e-commerce e quindi capiamo come saranno sempre più le persone, i beni che si muoveranno all'interno delle città. Questo fa sì che bisogna trovare una soluzione al problema dell'inquinamento, dell'effetto serra e di tutti i gas, diciamo, inquinanti che vengono emessi dalle vetture tradizionali e qui a questo punto intervengono le istituzioni. L'Unione Europea a luglio ha lanciato il piano Fit for 55, in cui ha chiesto una riduzione del 55% delle emissioni di CO2 nel 2030 rispetto ai valori del 1990. Ebbene, qui c'è un dato negativo che purtroppo devo sottolineare è che il settore dei trasporti è quello che negli ultimi 30 anni non ha visto purtroppo un miglioramento nel trend delle emissioni di CO2. Mentre il settore industriale, residenziale, agricolo hanno visto un miglioramento, quello dei trasporti purtroppo no, quindi è inevitabile dover intervenire. Detto questo, poi io ci tengo sempre a sottolineare che in realtà il trasporto su strada e in particolare il settore automotive contribuiscono comunque al solo 10% del problema. Quindi se anche domani tutte le vetture fossero full electric comunque avremmo risolto un decimo del problema. Detto questo, noi sulla base di queste indicazioni che sono state diciamo recepite ovviamente da tutti i costruttori di autovetture abbiamo voluto fare di più. Quindi l'obiettivo nostro è utilizzare il vincolo dell'elettrificazione come un'opportunità per potenziare ulteriormente il DNA caratteristico dei nostri brand. Quindi abbiamo colto diciamo la palla al balzo decidendo quindi di investire quei 30 billion di cui facevo riferimento prima e lo facciamo per investire su 4 nuove piattaforme che abbiamo annunciato a luglio e che lanceremo nei prossimi anni. Full Bev, quindi sono delle piattaforme che nascono per essere elettrificate. Non sono una rilavorazione di piattaforme che erano nate termiche e diventano elettriche ma nascono elettriche. Con questo noi abbiamo l'obiettivo diciamo di offrire ai nostri clienti soluzioni con autonomie che vanno dai 500 ai 800 km quindi assolutamente in linea alle richieste del mercato e una velocità di ricarica addirittura di 32 km al minuto grazie alle tecnologie di fast charge quindi assolutamente importante. E voglio concludere dicendovi che l'investimento sulle vetture elettriche è già in atto tant'è che abbiamo oltre 30 modelli già sulla strada tra Pev e PCV considerando tutti i marchi del gruppo e tutte le region. Quindi è un investimento che è già partito e la nostra strategia sta già dando i suoi frutti. Ho capito e un altro aspetto rilevante è che quando si pensa ai veicoli elettrici è sicuramente l'estrema innovazione l'estremo sviluppo tecnologico che questi veicoli hanno anche non strettamente legato all'elettrificazione in sé. Pensiamo al tema della sicurezza le prestazioni l'efficienza e per ultimo ma non per importanza anche il fattore dell'infotainment e quindi qual è il collegamento tra l'elettrico la mobilità elettrica e tutti questi aspetti ulteriori. Allora diciamo che sono dei trend che forse storicamente sono nati magari in contemporanea obiettivamente ricordo nel 2018 noi già parlavamo al Capital Markets Day di FCA di elettrificazione veicoli autonomi veicoli connessi quindi capiamo come sono dei trend che si sono evoluti diciamo in parallelo e si stanno evolvendo in parallelo. Allora il tema è che l'elettrificazione porta la necessità di offrire più servizi ai clienti basti pensare ai servizi di ricarica i servizi che noi vogliamo offrire visto appunto il periodo storico in cui ci troviamo sono digitali sappiamo benissimo come ormai il cellulare lo smartphone è una parte costante della nostra vita il nostro obiettivo è offrire dei servizi che siano digitalizzati al 100% quindi disponibili su app ma ovviamente per comodità anche sull'head unit nel sistema di infotainment della vettura per farlo anche qui come dicevo prima parlavo di cooperazione stiamo realizzando delle partnership abbiamo annunciato a maggio l'anno scorso una partnership molto importante con Foxconn addirittura è nata una nuova joint venture che si chiama Mobile Drive al 50% di Stellantis al 50% di Foxconn che ha l'obiettivo di realizzare la cosiddetta digital cockpit cioè tutta una serie di servizi feature e potenziali appunto caratteristiche di prodotto che si svolgono all'interno della vettura indipendentemente dalla piattaforma e permettono di dare all'utente dei servizi aggiuntivi che fino ad oggi erano addirittura inimmaginabili vediamo spesso diciamo rendering di vetture con intelligenza artificiale connettività 5G ebbene è quello su cui effettivamente stiamo lavorando quindi la connessione vettura uomo avrà sempre un'importanza maggiore e sarà diciamo migliorata e resa possibile grazie alla realizzazione di questi componenti che ci tengo a dire mobile drive realizzerà non solo per il gruppo Stellantis l'obiettivo sarà anche quello di vendere ad eventuali altri produttori di autovetture ho capito e in tema specifico di sicurezza che cosa state pensando che cosa avete fatto in questo in questi ultimi periodi ma allora da un punto di vista di sicurezza ovviamente come un po' avviene per il tema delle missioni ci allineiamo a quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dalle istituzioni cercando però di essere sempre avanti diciamo rispetto ai competitor e ad esempio un caso che voglio citare che secondo me è importante è il caso della 500 elettrica la 500 elettrica è una vettura diciamo per utilizzo prevalentemente cittadino che offre un livello di guida autonoma livello 2 pensare di offrire questa serie di servizi che comunque ovviamente hanno un impatto positivo sulla sicurezza su una vettura del genere da un grande valore aggiunto ecco tra l'altro dimenticavo prima parlando di digitalizzazione secondo me è importante citare uno dei servizi digitali che abbiamo lanciato proprio come i Mobility Business Unit è un programma che abbiamo portato avanti in autonomia col supporto del brand Fiat e cioè questo servizio che noi chiamiamo Kiri Kiri è il nome di questa start up con cui collaboriamo da più di un anno Kiri è il nome giapponese dell'albero della Paolonia che si dice essere l'albero più virtuoso in termini di assorbimento di CO2 ed emissione di ossigeno e dell'atmosfera ebbene Kiri ha creato una moneta virtuale verde per premiare le abitudini sostenibili dei clienti a noi è sembrato naturale e logico linkarla alla vettura alla 500 elettrica quindi tu guidando la 500 elettrica semplicemente guidandola puoi accumulare questi Kiri Coin perché si accumulano sulla base della CO2 che tu stai risparmiando non guidando una vettura termica per farlo ovviamente basta attivare il servizio tramite l'app quindi grazie alla connettività della vettura i dati vengono inviati alla piattaforma di Kiri che calcola il numero di gettoni che vengono accumulati dall'utente in particolare abbiamo voluto collegarlo a quello che noi chiamiamo EcoScore l'EcoScore è un punteggio che fa capire al driver della 500 quanto bene sta guidando la vettura quindi se sta risparmiando energia oppure se al contrario sta frenando troppo bruscamente accelerando troppo rapidamente quindi non sta risparmiando l'energia riducendo quindi potenzialmente anche il range della vettura per sforzare i nostri clienti a guidare nel miglior modo possibile abbiamo addirittura realizzato un contest quindi il 4 di luglio dell'anno scorso abbiamo premiato i migliori driver che stavano appunto mostrando il migliore EcoScore e quindi oltre a KiriCoin che durante l'anno continuano ad accumulare per un controvalore medio di circa 150 euro l'anno che comunque non è un dato diciamo da sottovalutare abbiamo elargito ulteriori 100 euro di bonus sotto forma di buoni da spendere sulle piattaforme di e-commerce per premiare appunto il fatto che stessero guidando in maniera sostenibile quindi un incentivo alla guida sostenibile ecco esatto e quando parliamo tornando appunto al tema della mobilità elettrica nello specifico ci sono sicuramente delle difficoltà che come dicevo nell'introduzione i gruppi e le case automobilistiche sono chiamati ad affrontare e nello specifico volevo chiederti di parlarne di due il primo è quello delle batterie abbassare i costi delle batterie e aumentare l'efficienza e l'altro è quello del forse ancora più attuale dei giorni nostri è quello della crisi dei microprocessori che sta avendo anche un impatto concreto nel settore automobilistico ok allora sì è sicuramente un tema scottante diciamo così allora prima di parlare di batterie semiconduttori però vorrei fare un passo indietro parlando di quelle che noi chiamiamo difficoltà concettuali cioè la difficoltà maggiore in questo settore è convincere i potenziali clienti che la scelta di una vettura elettrificata non è una costruzione ma un'opportunità quello che vediamo che manca è la conoscenza base del prodotto spesso non si conosce la differenza tra un plug-in hybrid un battery electric vehicle un mild hybrid cioè ci sono tante tecnologie che sono tecnologie in realtà che sono presenti da tempo anzi le primissime vetture nacquero come vetture elettriche però ovviamente poi il mercato l'evoluzione di quello che è stato il mercato automotive ha portato questa tecnologia a rimanere nascosta per molto tempo adesso quello che stiamo cercando di fare noi è sottolineare i vantaggi delle vetture elettriche fare conoscere ai nostri clienti quelli che sono appunto gli sbocchi di questa tecnologia e soprattutto offrire loro un ecosistema di servizi dedicato anche perché parlandoci chiaro le paure sono sostanzialmente le stesse il problema della ricarica quindi come ricarico la mia vettura dove come quanto quanto ci metto e quindi noi abbiamo realizzato una partnership con NOA realizzando questa joint venture che si chiama Fruit Movie Solution che è nata con lo scopo preciso di rispondere al problema della ricarica offrendo soluzioni customizzate per la ricarica privata e la ricarica pubblica l'altro problema è la durata della batteria cioè la durata in termini di capacità energetica quindi la disponibilità di una batteria che ti permetta di percorrere un certo quantitativo di chilometri per farlo noi stiamo investendo lato tecnologie poi ne parlerò dopo con diversi partner per realizzare delle batterie che siano al passo coi tempi ma stiamo anche pensando a soluzioni alternative basti pensare al Dream Garage che è una soluzione che è stata lanciata dall'Isis che ti permette quando compri la 500 elettrica di noleggiare a seconda dei bisogni una vettura termica o ibrida che ti permette eventualmente di muoverti per un viaggio più lungo con la famiglia piuttosto che addirittura realizzare un trasloco quindi diciamo un servizio digitale a supporto del cliente che acquista una vettura elettrica ma che ogni tanto può avere bisogno di una vettura con una diciamo percorrenza maggiore e infine l'ultimo problema è quello del prezzo della vettura il terzo problema grosso che tutti i clienti ci fanno notare e su questo problema noi stiamo agendo con soluzioni di finanziamento e noleggio innovative ad esempio di nuovo l'Isis ha proposto il sistema CarCloud che ad un prezzo molto conveniente ti permette di noleggiare una vettura elettrica di cambiarla quando vuoi di uscire da questo diciamo forma di noleggio nel momento in cui vuoi senza nessun tipo di vincoli e poi l'altro tema grosso è che noi ovviamente stiamo lavorando con le istituzioni per far sì che gli ecoincentivi rimangano attivi in tutti gli stati per più tempo possibile sappiamo che questo è un aiuto di cui abbiamo bisogno detto questo torno ai problemi tecnologici quindi batterie sicuramente citate tu prima noi stiamo lavorando sul tema delle batterie abbiamo annunciato diverse partnership con Total Soft in Europa da qui è nata la GenVenture ACC con LG e Samsung negli Stati Uniti per realizzare le famose gigafactory e produrre a tendere una capacità di 260 gigawattora a partire dal 2030 quindi ci stiamo realizzando in casa con l'aiuto di partner delle soluzioni di batterie che permettono di aumentare la capacità energetica in termini sia di volume che di peso e soprattutto di ridurre i costi sapendo che questo è uno dei problemi maggiori ma comunque si è assistito ad un trend di riduzione del costo per kilowattora che comunque è noto a tutti quindi si spera che a tendere questo prezzo possa ulteriormente calare sul tema dei semiconduttori sappiamo benissimo che è stato è tuttora un tema scottante che sta dando non pochi problemi devo dire che però anche qui sempre con Foxconn abbiamo annunciato a dicembre una partnership che prevede di intervenire appunto nella catena di produzione dei semiconduttori rendendoli disponibili per l'architettura elettrica Stella Brain che noi stiamo realizzando per le nostre future vetture e quindi l'obiettivo è anche qui di intervenire nella catena di produzione dei componenti per dare diciamo una risposta concreta a quelli che sono i problemi di approvvigionamento ho capito e così quindi state cercando di di porre soluzione ai problemi più grandi che oggi sono legati al mondo della della mobilità elettrica passando invece a un altro aspetto che hai citato verso l'inizio e quindi questo incentivo a far capire alle persone il valore anche della della mobilità elettrica e ci racconti di qualche esempio concreto so che c'è questa applicazione Fiat Go eLive che è proprio dedicata a far capire l'importanza dell'auto elettrica dei potenziali clienti allora sì assolutamente questo è un progetto a cui sono molto legato è stato gestito di nuovo come progetto Kiri dalla business unity mobility al 100% col supporto di nuovo dei brand allora tutto è nato da una da una semplice domanda che avevamo fatto ai nostri potenziali clienti due anni fa cioè quanti di voi hanno mai guidato un'auto elettrica o plug-in hybrid la risposta era stata che circa il 95 non ricordo il 92 95% delle persone intervistate non avevano mai guidato un'auto elettrica quindi ci siamo chiesti ma come possiamo fare provare loro le caratteristiche dell'auto ovviamente i test drive erano la risposta più ovvia ma era qualcosa che era già previsto però ne volevamo dare la possibilità ai clienti soprattutto in questo periodo di covid ricordiamoci che noi abbiamo lanciato le vetture la 500 elettrica nel 2020 quindi proprio in mezzo della pandemia quindi immaginatevi come potesse essere difficile in quel momento chiedere a una persona di andare da un dealer a provare la macchina abbiamo pensato di realizzare una soluzione digitale quindi un'app che permettesse ai clienti di simulare l'utilizzo di una vettura elettrica allora intanto vi do qualche risultato abbiamo fatto più di 50.000 download sia per l'app di Fiat che di Jeep che sono gratuite potete trovare sugli store sia di Apple che di Android e abbiamo visto che queste app hanno dato un boost alle vendite nel senso che tanti clienti ci hanno detto queste app ci hanno aiutato a scegliere la vettura elettrica o ibrida perché? perché praticamente queste app si attivano semplicemente guidando la tua vettura termica ipotizziamo di avere una vettura gasolio o benzina io attivo l'app all'inizio del mio viaggio selezionando la vettura che voglio simulare quindi la 500 elettrica piuttosto che le varie Jeep Compass Renegade o Wrangler plug-in hybrid e mentre guido l'app simula l'utilizzo della vettura elettrica e alla fine del viaggio mi dice guarda se avessi guidato una 500 elettrica avresti risparmiato x euro e avresti rilasciato y grammi di CO2 in meno nell'atmosfera in parallelo l'app da tutte le risposte a quelle che sono le classiche domande dei clienti quindi dove sono le colonnine e bene integrato nell'app c'è un servizio di localizzazione delle colonnine pubbliche c'è addirittura un test noi lo chiamiamo il GOI test che risponde alle domande del cliente per capire quanto è pronto a passare alla vettura appunto alla mobilità elettrica e poi abbiamo inglobato anche un servizio che ritengo molto utile che è quello relativo agli ecoincentivi sperando appunto che continuino ad essere presenti nei prossimi mesi cioè sulla base dello zip code del codice di avviamento postale di dove vivi l'app ti dice quali sono i benefici economici ma non solo che puoi ottenere grazie al fatto che vivi in una determinata zona si una guida alla transizione elettrica di fatto bravissimo diciamo un bignami per la transizione elettrica fatto in forma di app e devo dire che è funzionato ovviamente poi abbiamo cercato di inserire degli aspetti di gamification quindi una serie di badge che ottieni a seconda delle azioni che fai e devo dire che comunque appunto il riscontro è stato positivo e ha dato appunto i frutti sperati e in ultima l'ultima cosa che volevo chiederti è la vostra visione sul concetto di automobile ci hai parlato anche hai accennato all'ISIS Go quindi la possibilità di usufruire dell'auto come un servizio ma secondo voi come cambierà nei prossimi decenni il modo di concepire e di vivere l'auto ok ma allora per rispondere a questa domanda parto da una considerazione noi abbiamo coinvolto come Business Unity Mobility quasi 15.000 studenti negli ultimi due anni per attività di formazione di brainstorming e ci hanno dato una risposta ad una domanda che noi siamo soliti fare loro che ci ha ovviamente all'inizio spiazzato poi abbiamo capito che era qualcosa di normale in questo periodo storico cioè avete interesse a comprare un'auto a possedere un'auto la risposta degli studenti spesso è no io ho interesse ad utilizzare l'auto quando mi serve come un servizio per andare da A a B ma il fatto di possedere l'auto che una volta forse era anche uno status symbol nelle generazioni passate parlo per me non sono così vecchio ma ricordo che appunto è stato un traguardo per me riuscire a comprare la mia prima automobile adesso i giovani ci dicono che per loro è più importante usarla quindi ad esempio come vediamo il futuro dell'auto lo vediamo anche in forma di car sharing basti pensare che il settore del car sharing e in generale della shared mobility è un settore che ha avuto un boom diciamo in tutto il mondo negli ultimi anni nel 2020 i ricavi prodotti da questo settore in tutto il mondo sono di 60 miliardi di dollari quindi capiamo che è un settore veramente in evoluzione e quindi una di queste risposte dal punto di vista di Stellantis è stata lanciare il servizio Leasis Go che è il car sharing di Leasis attivo al momento a Roma Milano e Torino con più di mille vetture che offre un servizio a zero emissioni di CO2 perché sono solo 500 elettriche a coloro che ne hanno bisogno con servizi di abbonamento molto semplici quindi puoi pagare una fee mensile avere un tot di minuti oppure puoi pagare in modalità pay per use a prezzi veramente diciamo basici che permettono alle persone di muoversi a zero emissioni all'interno dei centri urbani senza problemi di accesso alle ZTL senza problemi di parcheggio perché il servizio è completamente free floating considerate che sono stati effettuati più di 200 mila noleggi nell'ultimo anno e il risparmio in termini di CO2 è stato di circa 80 tonnellate al mese considerando il rapporto tra guidare una vettura elettrica di Lisi Sgo piuttosto che una vettura di simili dimensioni ma termica quindi questa è un'evoluzione di come noi vediamo la mobilità però voglio aggiungere anche un altro tema relativo al progetto vehicle to grid che noi abbiamo lanciato in collaborazione con Frito Movie Solution e con NOA che proprio di nuovo vede un cambio di paradigma nell'accezione della vettura cioè pensare alla vettura come un peso per l'ambiente quindi collegata alla rete sempre diciamo in procinto di chiedere energia alla rete per ricaricare la batteria sapendo che le vetture per il 90% del tempo sono parcheggiate abbiamo pensato di cambiare appunto il paradigma di visione dell'auto facendola diventare un asset a supporto della rete quindi siccome sappiamo tutti che il piano Fit for 55 richiede comunque una penetrazione sempre maggiore delle energie rinnovabili sappiamo che in certi periodi dell'anno e soprattutto dopo una certa ora quando il sole tramonta magari in assenza di vento o altro la rete energetica italiana facendo l'esempio della rete italiana ha bisogno di chiedere energia alle classiche centrali a carbone se fossero collegate alla rete tutte le vetture elettriche che da qui ai prossimi anni ci aspettiamo di avere nel parco circolante ad esempio in Italia avremmo le stime dicono una potenza disponibile di circa 40 gigawatt considerando che la rete italiana ha una potenza di picco di 30 gigawatt vuol dire che avremmo collegati alla rete potenzialmente 40 gigawatt a supporto della rete quindi anche in caso di blackout non ci sarebbero più problemi perché le vetture sarebbero disponibili a dare questa potenza quindi capite come la vettura diventa anche un servizio a favore non solo della comunità ma anche a servizio proprio di quella che è la rete elettrica italiana e possibilmente anche diciamo a tendere europea e globale grazie al fatto che la vettura è diventata elettrica ovviamente qualcosa che con le vetture termiche non si può fare quindi vedete come sta proprio cambiando il concetto di intendere sia l'utilizzo della vettura ma anche proprio il bene in quanto tale va bene Gabriele grazie per averci raccontato il vostro interessantissimo punto di vista nel settore della mobilità elettrica a presto grazie a voi a presto e così si conclude questa puntata di Insider dentro la tecnologia io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chioccioladentrolatecnologia.it seguiteci su Instagram a chioccioladentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità noi ci sentiamo la settimana prossima